Salve bruuu, eccoci qua! Secondo episodio di Dishonored, il gameplay violento, nessuna pietà. Ehm, eravamo rimasti nelle funglie di Dunwall, oh, bei dettagli, dopo. Oddio, l'ho sparato, aspetta, dovrei aumentare un po'. Intensità o l'escillazione testa, tipo modalità, killcam, frequente, grafica, audio, comandi, impostazione mouse. Eh, sensibilità proprio a schifio proprio. Ok. Dai salva, salva. Vabbè. Ricordiamo. Alziamo un po', non sento un cazzo. Corvo, se legge questo messaggio vuol dire che il piano funzionerà e se vede... Un amico mi incontrerà presto. Tu mamma è puttana. Attento alle tratture. Potrebbero essercene alcune. Bene. Se funziona, una catturerà Corvo. Hai paura di lui? È di Serkonos. Da lì vengono solo mercanti e puttane. Ma che ca... Merda. Ma merda, maledita. Voi stanno mangiando i zoccol, eh. I zoccoli voi stanno mangiando proprio. Ma che ca... Ma ho ancora... Continuano a rompere... Dio. Oh. Vabbè. Buon pranzo. Ciao. Mamma mia che schifio. Tu plop 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 plop. Allora queste fugne di merda. No. Stron. Crepate. Gatti di merda. Date a fanculo. Ah. Stronzi. Tengo un po' di mobilità di... È proprio la mobilità di questo stronzo che fa schifo. O pagammi una staglia. Dai. Equipaggiamento nascosto a 70 metri. Bello. Bello. No. Devi cadere a mare. Ecco qua. Tutututututututututututututututututututututututututututum. Non capisco perchè Ma è proprio il mouse mio che fa cacare le palle Fa schifo proprio Tiene tutti sti pirulicchi di me Ecco qua No Fa schifo lo stesso Mamma mia che merda Diamo un po' spostazione mouse Mi l'ha assistito, si, ok Ah, adesso la sensibilità va meglio Un cartello Ah, ho capito, qui Siccome stanno quei ratti di merda E che ci pensino i topi I topastri Da sbita Topastri di merda Mamma mia che colpo Opla Mamma mia che paura Dai Dai Andate topi Dai topastri di merda Cioè, veniamo buttati tre Dai, dai, dai Che paura, che paura, che paura, che paura, che paura, che paura, che paura ok codico dico 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 l'acqua attenzione cittadini vittà corvo l'assassino della nostra amata imperatrice il abitore del re del trono ledy emily bella sta cadetà ha ucciso alcuni coraggiosi pubblici ufficiali coraggiosi erano facevano schifo le palle erano catturato o eliminato ad ogni costo tra merda liquida oh però una cosa segreta ho scoperto questo soldi 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 fotti di for lanciatore disarmato dardo incendiare bello for the king for the rain for the uh queste armi sono state create oh dio salve oh big balestra big coltello bella oh guarda come si atteggia corvo a tano io voglio una pistola la pistola fa più figo però non tengo i coltelli ehm un baule del merda whisky finito devi andare a fanculo scusami ok oh proviamo facciamo la fine dei topassi proprio oh big mangiamo legge nel caso sia troppo saperi cerca la risposta nel tuo whisky nel whisky ok whisky datemi il whisky datemi il whisky tante persone moriranno sotto il mio non lo farò passare signore lo sai a chi diamo la caccia non affrontarlo da solo e se in giro non c'è nessun altro della squadra allora fai molto rumore mentre muori butta giù qualcosa se ci riesci bastardo tra poco lo sarai anche tu porcellino d'india dove vai? po po ma che cazzo attenti Bernie non vi permetterò di scappare per l'obbligo cos'è stato mi ha detto porco Dio mamma mia ragazzi mamma mia mamma mia mamma mia mai minchia hai fatto un mostro avete visto staccheggia però no lo voglio questo stupito cadavere andatevi a topastri nessuno mi ha chiamato guarda quanti dardi mio dardo mio dardo Samuel chi è? ancora voi topastri di merda topastri di merda oppa che ammazzate dai siamo arrivati ho fatto un ucc... tre big uccisioni madonna schifosa che paura mamma mia mi ha fatto saltare l'assassino l'assassino della nostra amata imperatrice traditore dell'erede al trono traditore è tua mamma dai ragazzi siamo fuori oh oh e se ti volesse sparare mi chiamo Savoy lavoro per della brava gente che non vede l'ora di incontrarti sei qui come diceva una crociera ancora non ci credo ti porto da loro alla fine di questo fiume d'accordo vecchio non dice vecchio dice mamma ok ok bro abbiamo completato anche la seconda missione piccola missione dove abbiamo ucciso tre fottuti stronzi niente ci vediamo al prossimo video non mancate ho ciao